Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video, lo so! Questa settimana è mancata la reaction, terza puntata di C'è posta per te, ma non è colpa mia, è che io me la son guardata sabato, ma non c'era nulla di succulento, non ci sono state liti, non c'è stata la cosa scioccante, corna e tutto quanto, diciamo che è stata una puntata abbastanza piatta e non avevo voglia di farmi vedere ennesimamente frignare come una ragazzina di 12 anni davanti alla televisione. Però so che voi siete molto curiosi per quanto riguarda il programma e questo argomento e quindi non potevo lasciarvi senza video a riguardo e ne approfitto per parlarvi di una cosa che mi è successa, a me il medesimo stesso, perché ogni sabato sera quando ci sono le storie più o meno simili, dice posta per te in televisione, su canale 5 e con Maria De Filippi, che assomigliano un po' alla mia di storia con i genitori e tutto quanto, vengo riempito sempre e ve li posso anche far vedere con gli screenshot e tutto quanto se non ci credete, mi mandate 8 mila miliardi di direct su Instagram chiedendomi, ma Cristia, ma quando è che ti vediamo a C'è posta per te? Ma Cristia, ma perché non chiami tua madre a C'è posta per te? Ma Cristia, sarebbe una mega storia, no? Sarebbe una cosa super così finalmente potete far pace e quindi oggi mettetevi comodi perché vi racconto tutta la verità su la mia storia, su C'è posta per te e magari delle news per quanto riguarda il mio rapporto con quella che era mia madre. Quindi mettetevi seduti, io sono in compagnia come sempre della mia Red Bull Sugar Free e mi sa che ne avrò bisogno perché comunque è un argomento un po' serio e un po' anche difficile da affrontare, però così una volta che vedrete questo video la smetterete di scrivermi in direct le solite cause e mi sento in dovere di raccontarvi e spiegarvi un po' la situation, e vi faccio un dato che comunque da quando ho aperto questo canale io vi ho raccontato quasi tutto quello che mi succedeva nella vita e quindi vi meritate anche questa spiegazione. 3, 2, 1, momento ASMR! Ah, che bello! Non vi preoccupate, i capelli andrò a farmeli molto presto, eh, perché non hanno più un senso. Sorso iniziale e direi che possiamo iniziare dall'inizio. Per chi fosse nuovo in questo canale o magari capitasse per caso in questo video e non mi conoscesse, la mia situazione familiare è un po' strana perché da una parte c'è una parte della mia famiglia, quella di mio padre, a cui sono molto legato, l'altra parte, quella di mia madre, un po' così e così perché in passato sono successe delle cose che mi hanno portato a rompere definitivamente il rapporto che ho con mia madre, ok? Se non ne sapete niente, ci ho fatto uno story time mille milioni di anni fa, insomma, ve lo potete andare a vedere. Se non ve ne frega nulla, amen. Anyway, da quando io vi ho fatto quel video in cui vi spiegavo un po' la situazione, di quanto magari sono stato male e tutto quanto, avete detto varie solution a questo problema e una di queste era, ma perché non mandi la posta, c'è posta per te? La verità è questa. Io non posso mandare di mia spontanea volontà la posta a mia madre perché in realtà dal mio punto di vista sono io quello arrabbiato, ok? Sono io quello che ha ricevuto tra virgolette un torto e quindi mi sembra anche tipo che abbia poco senso il mio mandare la busta perché io la mando per cosa? Al massimo la sblocco dal telefono e la chiamo, ok? Se volessi fare una cosa del genere. La chiamo, ci prendiamo un caffè e parliamo. Il mio problema è che è vero, sono passati undici anni quest'anno, sì, undici anni, ma ce l'ho sempre qui, ok? Ho imparato in questi anni, in questi ultimi mesi soprattutto, a convivere con questa mancanza. Ormai ci convivo da anni e anni e anni e quindi vado avanti per la mia strada. Sono sempre arrabbiato, ovviamente, perché poi sono successi anche novità, sono successe cose nuove che mi hanno comunque lasciato degli straci che quindi per me è un capitolo chiuso, ok? Quindi il fatto che mi diciate, manda la posta, non ha molto senso per me, ok? Perché io non la voglio mandare la posta perché io non devo chiedere scusa a nessuno, zero. Non voglio nemmeno passarci come quello di, ok, il torto l'hai fatto te, però ti mando la posta perché mi manchi tanto. No, no. Quindi scordatevi che io vada mai in quel programma dalla parte del mandante. Ok. Per quanto riguarda invece il, ma tu madre, non può mandare lei la busta? Gliel'ho detto. In realtà, l'ultima volta che l'ho sentita e l'ho vista, sono passati tipo quattro anni, cinque anni, super giù. Si fece, eh, quella litigata che si fece in mezzo alla strada, super giù al banco. Ecco, Mattio, l'ultima cosa che le dissi proprio fu, che ero arrabbiato nero, fu questa frase. La prossima volta che mi vorrai parlare o mi vorrai vedere, devi mandare la posta, c'è posta per te, perché se no io non te cago più, ok? Io ho preso e sono andato via. Ovviamente è stata una frase detta dall'impulso della rabbia e tutto quanto per farle capire. Guarda, da ora in poi io non esisto più. L'unico tuo modo per cercare di rivedermi o di riparlarmi è quello, perché tanto se mi viene a cercare normalmente io non te cago, ok? Però da quel momento ad oggi sono passati un po' di anni, ok? Non mi ci avete mai visto perché non mi ha mandato mai la posta, ovviamente e anche giustamente, direi. Perché diciamo che per quanto riguarda lei e per come la conoscevo io, io penso che lei abbia sempre avuto questa paura di mostrare il fatto che magari sbagliasse qualcosa o magari, tra virgolette, il fatto che lei si dovesse umiliare in qualche modo davanti a tutti per parlare delle cose che sono successe. Perché, cioè, ci penserei anch'io due volte se avessi sbagliato andare in televisione davanti a 6 milioni di telespettatori ad ammettere di aver sbagliato, non è una cosa molto facile. È anche vero che a regola, se è l'unico modo, puoi pensare di provare per cercare di riallacciare un attimino il rapporto col tuo figliolo, se ti interessa, lo fai se proprio è l'ultima spiaggia. Ma, conoscendo il tipo, conoscendo il fatto che io ho bloccato il suo numero su Instagram, su WhatsApp, le chiamate, messaggi normali, Facebook, l'ho bloccata, ovunque. E, di solito, quando uno ti blocca con un numero, prendi un altro telefono e chiami. Però via chiamate, che io poi il numero non lo conosco, rispondo. A regola. Conoscendo il fatto che in questi anni non lo ha mai fatto, pensate, secondo voi, che va addirittura in televisione? No, non penso proprio. E va benissimo così, ok? Anche se, da un lato, potrebbe essere un passetto in più per farmi capire che è disposta veramente, magari, a metterci la faccia per chiedermi scusa. Davanti a tutti, sai che so che è una cosa che comunque è... lei è super contraria. Se vieni addirittura a fare una cosa del genere, forse mi destabilizzerebbe un attimino. fatto sta che comunque io questa scorsa settimana sono stato in Toscana e ne ho approfittato dopo il vaccino, che è vero che sono stato un po' male, però comunque stavo ancora in piedi e ne ho approfittato per andare, appunto, anche dagli altri miei parenti che fanno parte dei parenti di mamma, insomma. E la prima cosa che mi ha detto mia nonna, quando l'ho incontrata, mi ha fatto, eh, lo sai, ho guardato, c'è posta per te sabato? Ma scusami, ma perché non ci vai anche te con tua madre? E io ho detto, scusami? E mi ha detto, è lei che mi deve chiamare. E lei mi ha detto, eh, ma lo sai che gliel'ho detto? È da anni che glielo dico di chiamarti lì, dato che è l'unico modo per avere una specie di contatto, però comunque lei dice no, dice no, è qui che non ha bisogno, perché al massimo può fare, può trovare altre vie. Ha fatto, no, va benissimo per me, perché comunque in quel caso forse anch'io farei una figura barbina, perché non so se sarei pronto ad aprire la busta o magari a chiuderla. Insomma, è una cosa un po' difficile. Però, quali sono le altre strade, dato che non ne hai fatte neanche una e non ne hai presa neanche una? Quindi non capisco bene la situation qual è. Quindi mi sono fatto una specie di pensiero, mio, personale, che poi probabilmente è sbagliato, però adesso ve lo vado a raccontare, è questo. Va bene così, semplicemente. Nel senso, so che si è riempita di cani, questa roba qua, quindi evidentemente i cani che ha per casa prendono un attimino il mio posto. So che dopo lo scopo del coronavirus, che io mi ero trasferito a Milano, che ero praticamente solo, che poi l'avevo preso, insomma tutta questa roba qua, questa, nemmeno ha provato a contattarmi, non ha fatto niente, insomma così, per vedere la situazione, perché non so se vi ricordate, ma nel 2019 all'inizio si erano tutti proprio impanicati, quindi non lo so, c'hai un figliolo che non senti da un po', che è a Milano, al centro di tutti questi cosi, di questo casino, non gli dici nulla, boh, non lo so. Quindi, ragazzi, ragazzi, per favore, non me lo scrivete più, ma perché non vai a Ceposta per te, ma non ti vedremo mai a Ceposta per te? No, al momento penso di, non andare mai a Ceposta per te, almeno, per quanto mi riguarda, io non ho intenzione di chiamare, al massimo posso chiamare un mio amico, per fargli la sorpresa, per avere un mega figone, per vedere un attore super. Vorrei incontrare Sabrina Ferilli, in realtà l'amo, lei potrebbe diventare la mia nuova mamma, e così, magari poi lei può andare da quell'altra mia mamma, e gli dice, svegliati, amore mio, se no Cristiano non ce la fa. Adorerei. Anyway, questo è il fatto, è tutto l'ambaradam, tutto lo specie di story time, per cui, non mi vedrete mai lì, in televisione, a maggior ragione, a parlare di queste cose. Avevo rinunciato, non so se vi ricordate, qualche anno fa, che mi chiamò anche Rai Uno, a parlare di tutte queste cose, che avevo rinunciato, e anche lì gli dissi, no, al massimo, ma se mi devo sputtare del tutto, c'è posta per te, perché è il programma mio preferito, e quindi va bene. Però, la situazione è questa, lei un ne voglio sapere, io un ne voglio sapere, va benissimo così, ormai ci siamo abituati, penso anche lei a questo punto, dato che, le cose, non sono cambiate, minimamente, penso che sia anche, un attimino, frenata, dal fatto, del compagno lì, che, magari poi, la tratta male, non lo so, o magari, dice, no, non andare lì, perché se no, io non ti parlo, queste cazzate qua, da quindicenne, però, non so niente, perché io, effettivamente, non so proprio più niente, da quando non la vedo più, non so niente, della sua vita, quindi, in realtà, non so nemmeno, se stanno ancora in, sì, penso di sì, ok, perché se no, mi avrebbe cercato, in qualche modo, anyway, ripeto, un'altra volta, please, non me lo chiedete più, non parteciperò a C'è posta per te, magari, ma non ce la farò mai, a fare una cosa del genere, e sapete anche il perché, ora, io spero che, sabato prossimo, ci sia, qualche storia, un po' più, peperina, diciamo così, l'unica cosa che mi manca, sono tipo le suocere, quelle inviperite, quelle che litigano, quelle che, si azzuffano, quelle che, se la, non se la mandano a dire, mi mancano quelle, ok, i vecchini, i anziani, che non si vedono a 50 anni, sono simpatici, ma, se io ci voglio fare un video, voglio arrabbiammi, tipo le corna, della prima, puntata, tipo il padre, della seconda puntata, queste storie, mi infogano, e, mi fanno venire voglia, di farci la reaction, quindi, incrociamo le dita, ragazzi, ragazzi, per, la prossima puntata, mi scuso, ancora una volta, per, non aver fatto, la reaction, ma, appunto, come vi ho già detto, a inizio video, questa, la terza puntata, a me è sembrata, un attimino, un po' piattina, e poi, sono stato anche, indaffarato, devo dire la verità, ma, questo è un altro discorso, scusatevi per il video corto, ma, ci tenevo, a, raccontarvi, no, questa cosa, una volta per tutte, perché così, almeno, chiudiamo, il cerchio, non vi preoccupate, che tanto io, sto benissimo così, quindi, non c'è niente da, chiedere di più, non c'è niente da, pensare, diciamo, scrivetemi qua sotto, tramite un commento, cosa ne pensate, di tutto questo, Ambaratam, non vi preoccupate, che domani, arriverà, il mukbang, quello famoso, del McDonald's, in cui rispondo, a tantissime cose, che mi avete scritto, su Instagram, con, soltanto, la verità, iscrivete al mio canale, se ancora non lo avete fatto, mettete mi piace a questo video, se, vi ha un po' soddisfatto, la curiosità, per oggi è tutto, ci vediamo, quindi domani, sempre alla stessa ora, alle 13, sempre su questo canale, sempre con il mio faccione, sempre con questa voce, di merda, ciao!